E salve a tutti amici 4 anni e bentornati in questo novissimo video di Insarges in Sandstorm Allora oggi siamo con il cecchino ma prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate il link per il codice sconto DigiPortal Trovate anche il link al Twitch perché adesso la sua mamma fa i pompini col culo Ma adesso con Twitch posso riuscire a fare le stream grazie a Starlink e c'è l'appuntamento fisso martedì, giovedì e sabato alle 16 alle 19.30 Poi domenica e lunedì è tipo un forse maremma puttana, tutti dei cazzo di cecchino, gli occhi da falco tutti quanti Fatemi parlare porca troia Quello l'ho visto Quindi mi fanno perdere la concentrazione Allora, dicevo, che dice Ho preso, voglia Quindi dicevo, no? Appuntamento fisso, quei giorni e quell'ora Mentre quelli che non ho detto, tipo Domenica e lunedì è tipo un bov E anche orario non si sa Comunque magari attivate le notifichine e vedete un pochettino quando vado online E la sua mamma uguale fa le cose sporche E invece tipo il mercoledì e il venerdì La sera ci potrebbero essere, non si sa Però comunque sicuramente gli orari sono quelli che ho già detto in quei giorni E ho pure fissato nella community tab Ci ho messo pure i giorni Scusa Scusa Vediamo se riesco a fare il mio cazzo di lavoro da cecchino Ok Ok Oh merda, oh merda, oh merda, oh merda Tiralo fuori No! Oh! Ok Ah Qualcuno è incazzato Scusatemi Ancora Da dove? Ma? Quello continua a muoversi, mi fa paura, aiuto Dove? Da dov'è che sparano? Lo vedo, lo vedo Dai, esci Esci Oggi mi sentivo da cecchino Perché Non lo uso praticamente mai Hai visto che tutti si divertono a camperare Vaffanculo Io Voglio unirmi a loro Però Lo dovrei prendere Comunque Cioè Teoricamente lo dovrei prendere Poi Ok Non lo mettere il bipode Se non te lo dico io Porca trotta Oh merda Uh, uh, uh L'abbiamo visto tutti Ho sbagliato Ho sbagliato Uh, uh No, no Da dietro non vale Un pample Non vale un pample mouse Lì Quei cazzo ti chiami Vaffanculo No Uh No Oh Oh Che è che mi arrivano colpi qua Oh Che cazzo è Ah ma c'è C'è qui E Eh, eh Non c'è Nessuno dei nostri A prenderla Là c'è un nemico Non c'è più Oh No Non è vero Non è vero L'avevo preso prima io Non va Non è vero Non è vero No Non va bene Ma sento Enemy taking bravo Non va Porca Caccio Il tuo bimbo Ancora te Dove sei Zè camperare Dietro alle Alle cose Alle fessure Dei legni Nella finestra Ma sei serio Poi l'hai preso La cip Porco boia Ma perché arrivano Colpi in qua Se l'enemy Just took alpha Noi Ce la riprendiamo Fan Culo Quello lì Vedete qualcosa? Si Ok Non so se l'ho ucciso Io Orco boia Dalla destra Spano dietro Ma non c'hanno Ancora C Andatela a prendere Staccino Eh vabbè La vado a prendere C Amici No No Ma vaffanculo Dov'è 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 Ancora Dov'è Dov'è Guardalo Ma guardalo Quanto godo Adesso che t'ho fatto Porca troia No Finalmente Ero riuscito Ad andare Su quelle cazzo Di scale Ma ammazzo Il compagno No Hai capito Non tanco Praticamente Nulla Stanno prendendo C A E B Tutto stanno prendendo Porca troia Raga Portiamoci a casa Sta partita No Ok Portiamoci a casa Sta merda Di partita Madonna Che sono Sti scatti Random Minchia Se quello Era storto Eh vabbè Eccolo Chi è Chi è Chi è Lui Chi sarà mai Lo stronzo A camperare Lo stesso Angolino Da inizio Partita Cioè Questo Dimmi 26 Vabbè Meno male È un livello 40.000 Se no Assurdo Ma Che cazzo Di gusto Hai A startene A camperare Lì Zio Ok Le loro Le loro Le loro cose C'è Ma Che cazzo Ci faceva Quello Ah Era Di fronte Ok Adesso Mi sono Cambiato Un po' Le modifiche Nel Cecchino Che io Ho messo Il Grip Per Dove Sei Cazzo Vaffanculo Se era quello Bastardo Madonna Madonna Non ho più Nulla Insomma La descrizione È un luogo Magico Dateci Sempre Un occhio Madonna Sti Sti Scatti Così A random Li odio Va bene I suoni Non sono Direzionali Per niente Cioè Era accanto A me E io Lo sento Da un'altra Parte E le cuffie Giuro Che non Sono Al contrario Ho visto Vaffanculo Ma Vaffanculo Che cazzo Ci fa Uno dietro Di me Vaffanculo Cristo Dio Togli Quella Molotov Dalle mani Strunzo Ma le due Cazzo Non te L'hanno Detto Ma guarda Un po' Te Sorry Your Mam Oh Ti abbiamo Visto Tutti Quello Lì Sì Sì Quello Abbiamo Visto Tutti E Bof 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 Yala 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 Bè La Gazzona Assurda Oddio Ok c'è morto Era l'ora Va Un altro Un altro Sotto Oh no Morto No 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 Eh Eh Pensavo ci fosse morto Madonna Madonna Senti là Come ha sfondato Madonna Pistolina Uppi Preso Preso C'è C'è qualcuno Qui dietro È il mio compagno Orca merda Dove Dove La testolina Ma pure B Complimentoni Alle mamme Alle mamme Oh Oddio Quello è veramente Un nemico L'ha ucciso Almeno Il mio compagno Mi ha vendicato Mi ha revengiato We never know Eh no Eh dai Eh no Non può Spawnare dietro Di una Dai Mi ha Amo Vediamo se con tutto sto casino Ok Ciao amico Cioè quando cambio arma E faccio altre cose Soprattutto se prendo il cecchino E inizia Mi scatta Belle ste cose Ok Il mio compagno dietro no? Ho sentito uno troppo vicino Infatti era lui Oh merda C'è un altro Eh vabbè no Io sono andato proprio dentro Mi sono andato proprio dentro Praticamente È stata un'operazione chirurgica Mi hanno rimpiazzato un testicolo Va bene Va bene Ok Ho avuto l'inuman reaction Io pensavo fosse uno sdraiato Mi hanno preso amici Mi hanno preso amici Nooo no 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 E no E no Oh madonna Sti spawn Ma che è Codo Valorant Peggio Cioè Valorant Cioè Valorant Agli spawn fatti bene A differenza di Di questo Eh vabbè Cioè mi spawnano lì E mi arriva anche da dietro Che è sta roba Da quando Cioè hanno fatto un aggiornamento E gli hanno rovinato gli spawn Cioè Fatemelo sapere Perché Davvero io Non ho mai visto Una roba del genere Mai No Precisissimo Lui con le mp7 Da distanza Questi stronzi Sono qui da qualche parte Da questa parte Della casa rossa Mi pare Ora se appunto C'è uno Io che corro così Mi sento Sei morto vero Però GG GG Signorini Quindi signorini Se morirete alla fine Anche di questo video Come sempre Spero vi sia piaciuto E vi ricordo Sotto in descrizione Gportal Twitch Martedì Giovedì E sabato Alle 6 19 30 E anche il Discord Della comunità italiana Dinsargensi Così da trovare Gente con cui giocare C'è anche gente da play E bla 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 Comunque Guardate la descrizione Che Ci sono sempre Cose magiche Quei dei signori Io come sempre Vi ringrazio per la visione E alla prossima Ciao 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 Ciao